Ragazzi buonasera, allora video molto importante stasera perché come parlo sempre il gruppo di pari è una cosa fondamentale noi siamo alla media delle 5 persone con cui stiamo di più quindi se siamo circondati a 5 amici che sono dei ciccioni noi saremo il sesto ciccione se siamo circondati a 5 poveretti che non hanno soldi noi saremo i sesti a non avere soldi se siamo circondati a 5 milionari allo stesso tempo noi saremo il sesto milionario del gruppo anche per questo motivo che si dice sempre cerca di essere il più stupido della stanza in cui ti trovi perché se sei più intelligente verrai solo buttato giù se invece sei il più stupido ti alzerai sempre al livello degli altri quindi è fondamentale appunto controllare il nostro gruppo di pari però allo stesso tempo è anche fondamentale comunque conoscere persone perché se vogliamo migliorare il nostro gruppo di pari ovviamente dobbiamo conoscere la gente in gamba per questo motivo in questo video volevo darvi un po' un consiglio il posto che io ho trovato migliore io comunque siete una persona molto amichevole anche se ero comunque un introverso prima al giorno d'oggi sono molto amichevole, molto estroverso parlo con chiunque senza alcuna difficoltà ma ci sono venuti anni per arrivare a questo ed è un qualcosa che dovreste iniziare a fare anche voi, dovreste impegnarvi soprattutto per chi appunto è introverso, si ritiene introverso o timido o quello che è il luogo che io ho trovato migliore per conoscere persone è la palestra perché è un luogo veramente semplice per cui voglio conoscere gente perché fondamentalmente in palestra sono socialmente la maggior parte della gente è ritardata la gente entra in palestra, non saluta nessuno la maggior parte, non parlo di tutti, però la maggior parte non saluta nessuno non dice niente a nessuno al massimo con dei amici stretti con cui si allenano assieme ma fondamentalmente non ha contatto con le altre persone neanche il saluto, lo spesso manco questo però dà un vantaggio a chi appunto vuole crearsi una rete come come si dice in inglese un inner circle cioè un circolo, questo perché? perché crearsi un circolo di persone che ti conoscono quando diventi anche un po' popolare diciamo hai accesso a tante opportunità hai, se ovviamente il tuo status si eleva quindi si collega anche molto al fatto se uno vuole avere più ragazze la propria vita io mi ricordo che il periodo in cui ho avuto più disponibilità di ragazze era il momento in cui conoscevo più gente perché appunto inizia a diventare il leader per certe persone anche se la tua natura non è quella di essere un leader però fondamentalmente nella palestra cosa succede? che essendo molti, non ritardati per forza però avendo comunque difficoltà a parlare con altre gente appena tu sei il primo che riesce a presentarsi a dare una mano a qualcuno a fare un commento oppure anche dare un consiglio la gente ti vedrà subito come un punto di riferimento ovviamente se sei uno che non sa un cazzo di palestra il consiglio magari non dare dei consigli perché potresti far cazzate però tanto informati perché dovresti essere il primo che si informa su come svolgi degli esercizi informati ma soprattutto magari di cazzo voglio arrivare al tuo scusami mi puoi dare un consiglio lo stesso mi dai uno consiglio e le persone ti vedranno più come rispetto soprattutto a quel punto è molto più facile installare un'amicizia conoscere la persona considerando che la vedrai spesso e volentieri agli stessi orari, agli stessi giorni inizia a creare appunto un rapporto io mi ricordo che per fare un esempio sono andato in una nuova palestra in tempo una settimana ho conosciuto 3 o 4 persone la settimana dopo sono andato in palestra con due miei amici che si allenavano lì da mesi ho salutato queste 3 o 4 persone mi hanno detto cazzo ma conosci tutti e non è il fatto che conosco tutti è il fatto che io sia da solo che sia con altra gente mi piace conoscere gente mi piace dare una mano perché sapendone qualcosa di palestra posso permettermi di dare dei consigli ma mi piace anche imparare cose nuove se vedo uno di 50 anni che ha un fisico della Madonna mi piace chiedere, fare domande e la gente appunto apprezza i complimenti e apprezza la gente con le palle perché apprezza soprattutto fondamentalmente come ho detto socialmente ritardata ma la gente è ovviamente una battuta però la gente è amichevole se non siete in questa idea dovete cambiare le vostre convinzioni la gente ama parlare con gli altri ovviamente c'è i momenti in cui non c'è una voglia però si capisce anche io c'è i momenti in cui nessuno mi deve rompere i coglioni perché sono focalizzato sulla palestra però è il luogo veramente più almeno io ho trovato più semplice per conoscere gente e un altro motivo sempre legato al gruppo di pari è il fatto che conoscete gente che si vuole migliorare cioè non siete al McDonald's dove c'è il ciccione che sta mangiando il quinto panino della giornata e poi gli dici bravo complimenti siete in un posto dove la gente si vuole migliorare e questo è un ottimo punto di partenza per chi vuole costruirsi un ottimo circolo di amicizie iniziate subito ad iscrivervi in palestra ho già fatto un video riguardo non c'è un motivo per cui non dovresti iscrivervi in palestra adesso farò anche un video riguardo per un'altra cosa dovresti iniziare a fare appunto uno sport a combattimento ma questo è un argomento di altro video quindi iniziate subito andate subito a iscrivervi in palestra con tutte le persone con cui collaboro dico fai palestra fai qualcosa no allora bene iniziamo il percorso però allo stesso tempo tu vai a iscriverti in palestra sia per l'off-up sia per tutti i benefici che ci sono ma è fondamentale dovete andare lì sollevare cose pesanti aumentare il testosterone siete degli uomini cazzo volete essere degli uomini dovete lavorare su questo fondamentalmente dovete anche lavorare sulla vostra apparenza prima di tutto tornando al discorso principale per chi appunto mi ha già chiesto ma come conoscere gente vedo comunque se ne posso fare più amici qual è il posto migliore cazzo andate in palestra parlate con la gente la gente cazzo ha voglia di parlare ha voglia di conoscere altre persone non fatelo magari mentre si stanno allenando durante un set però durante la pausa durante il resto chiedete date dei consigli se avete le competenze se conoscete persone un consiglio che vi do quando vedete perché io vorrei lo facesse a gente con me io lo faccio con gli altri ed è il modo veramente più veloce per cui starò in amicizia quando vedete uno che sta facendo che ne so panca piana panca con i manubri sta facendo un esercizio in cui si può dare una mano le ultime ripetizioni quando vedete che non c'ha sta più facendo dategli una mano dategli una spinta proprio prendetelo ovviamente dovete capire quando farla questa cosa e non all'improvviso ma piano e cazzo quando fate una roba del genere chiunque mentre sta facendo un set vorrebbe avere qualcuno che gli dà una mano soprattutto chi si allena da solo quindi se fate una roba del genere vedete che tanto vi saranno grati perché l'avranno fatto più ripetizioni però soprattutto vedremo che voi ne sapete qualcosa e siete disposti a darvi una mano per farvi un esempio io ho fatto questo su una persona ma così a caso una ripetizione mi ha ringraziato come sono andato ha finito l'allenamento sto qua è venuto ha fatto il giro dalla palestra è venuto da me e mi ha salutato e oggi adesso è un ragazzo albanese tranquillamente ci parlo ed è un amico io ora ve l'ho detto vado in palestra da tre mesi neanche conosco ho già conosciuto una quindicina di persone tutte persone che mi salutano ma non è perché voglio vantarmi è per dirvi per chi si lamenta perché io vedo tanta gente che si lamenta dice cazzo non ho amicizie la gente è falsa non è vero cazzo ovvio c'è tanta gente falsa non è il primo che lo dice però minchia non è difficile conoscere gente in gamba gente che si vuole migliorare gente che appunto ci tiene comunque a crescere come persona è molto semplice basta capire quella cazzo di bocca e uscite dalla vostra zona di comfort perché veramente troppa gente è lì a dire non ho di amici non esistono vere amicizie andate a fare in culo se ragionate così cambiate le vostre convinzioni cambiate le vostre azioni e vedrete che attraverete gente incredibile nella vostra vita qui ragazzi vi auguro tante comunque ci sarà sempre la gente di merda non potete farci niente vi auguro tante belle cose statevi bene vivete con passione buona serata ciao 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 ciao